Incontrare oggi i paesi del Mediterraneo che rappresentano la zona, la regione della biodiversità del Mediterraneo in Europa è un evento importante, è un incontro che mette le basi per il nostro sviluppo. Insieme a questi paesi, valorizzando la biodiversità delle nostre regioni, costruiremo quei percorsi di sensibilità, ma soprattutto di turismo naturalistico e archeologico su cui faremo crescere tutte le regioni del Mediterraneo. Abbiamo il dovere di riportare il Mediterraneo a essere il motore dell'economia e del turismo naturalistico ed archeologico della nostra Europa. Lo stiamo facendo insieme ai cittadini, ai nostri ragazzi, agli studenti, alle associazioni ambientaliste, al mondo del lavoro, insieme ai nostri sindaci. Sono fiero di quello che stiamo facendo, sicuramente ci sarà un grande futuro per la nostra regione.